Iniziare intorno alle due, due e mezza, ma l'ho avuto da fare. Allora, ho già fatto i miei commenti in questo post rapido Facebook e poi approfondirò meglio nel mio blog, eccetera. E stavo facendo proprio i commenti sul coronavirus, come lo chiamerebbe Gigino, no? Stavo facendo un po' di commenti e riprendendo un po' la situazione. Allora, cercando di mettere un po' d'ordine nelle cose da dire, la prima cosa importante è che io non ho fatto come tanti che da un mese che spammano la rete, i social e qualunque roba facendo, spiegando qualunque tipizia, qualunque foto, qualunque fake, qualunque minchiata e buttandola giù, buttandola dentro. Ho seguito un altro metodo, che è quello di aspettare che ci fossero dei dati e un trend un pochettino più chiaro per poter fare una serie di considerazioni. Poi, come altro metodo, inizialmente in effetti ho deciso di guardare i mercati, come faccio sempre e funziona praticamente sempre, no? Però i mercati, in effetti, potrebbero essere in questo caso desincronizzati, perché essendo coinvolti nella più grande bolla della storia di sempre, coordinata dalle varie banche centrali, essendo sommersi di liquidità che non sa dove andare, potresti avere in effetti un ritardo dell'anticipazione, perché i mercati tendono sempre ad anticipare, potresti avere un ritardo dell'anticipazione dei mercati sugli eventi che stanno accadendo col coronavirus nel mondo e sugli impatti economici di cui andremo a parlare. Quindi, in effetti, potrebbe essere questo, questi mercati così derogati, invece che essere leading indicator, potrebbero essere addirittura lagging, anche se poi quando si ricordino lo fanno molto in fretta. Lo fanno molto in fretta perché, vi faccio un esempio, vi abbiamo parlato l'altra sera, perché ormai io tendo a fare informazione non più generalista e diffusa per tutti, ma più rivolta a chi ha capito, quindi a pochi, e quindi eravamo sulla mia piattaforma Discord, Radio Terra Bitcoin, con Paolo Cardenà, bravissimo, veramente uno dei migliori analisti economici oggi che c'è in circolazione, e abbiamo già iniziato ad anticipare con vari grafici, vari ragionamenti, quale potrebbero essere gli impatti economici globali del coronavirus sull'economia globale, anche se appunto sono veramente previsioni molto, molto, molto difficili. Sono difficili non tanto da un punto di vista economico, ma proprio dal punto di vista se si innesca la psicosi, perché se si innesca la psicosi diventa difficilissimo veramente fare qualunque tipo di previsione. Comunque, riprendo con ordine, i mercati quindi potrebbero non anticipare, però potrebbero esserci degli indicatori invece economici che possono essere utili. Quindi premetto che io non voglio fare lo spietato cattivo che dei morti non me ne frega niente, vi sto facendo un'analisi da analista economico e finanziario, quindi mi occuperò esclusivamente delle cose di mia competenza, quindi degli impatti economici potenziali o cose di questo genere. Non è che non mi dispiace perché muoiono le persone, però non è questo il punto dell'analisi che sto facendo. E tra l'altro io non sono medico, non sono virologo, quindi tutta quella parte lì non posso dire nulla e posso dire ben poco. L'unica cosa che però faccio, a differenza di un sacco di soliti cialtroni web da Bar Sport, è che ho deciso di seguire da questo punto di vista 3-4 persone o fonti informative che ritengo affidabili, tipo per esempio la città di già in altri post Lilaria Capua, che è una virologa di altissimo livello, che aveva studiato la SARS, eccetera, che era stata intervistata da Michele Boldrin sul suo canale YouTube, e in effetti lei aveva già detto circa un mese fa, adesso doveva andare a costruire, trovate l'intervista, aveva già detto che la pandemia era praticamente sicura, perché vedendo il tipo di virus che aveva visto e calcolando che siamo un'economia globale dove si via moltissimo, oggi si muove, eccetera, eccetera, era probabile. Poi pandemia globale vuol dire semplicemente che la malattia si diffonde in tutto il mondo, non vuol dire che moriamo tutti e che andiamo in giro con le carrozze e cavalli o che dobbiamo rinchiuderci in casa con i bazooka, non è un film di zombie qua, non è un film post-atomico, un Mad Max. Semplicemente vuol dire che questa cosa qua va tenuta in conto, e tenendolo in conto, chiaramente se tu sei a livello di pandemia, mentre prima si parlava di Cina, che tra l'altro è una caratteristica abbastanza divertente, cioè pensare che noi siamo una società globale, globalizzata, con le multinazionali, però hai una buona parte della produzione che è tutta centralizzata in Cina e di intorni. Questo è chiaramente un single point of failure, cosa che si discute proprio sul Bitcoin e sul fatto di reti decentralizzate, perché capite che se avevi solo una concentrazione in Cina potrei già fare un calcolo dei problemi economici, perché già dei componenti oggi ritardano ad arrivare. Guardavo adesso gli ultimi schermi di ultima generazione OLED LG che non stanno arrivando, vengono rimandati, anche se non so se sono prodotti in Cina o in Corea, comunque l'area è quella del sud-est asiatico e in particolare la Cina, ci sono tante altre componenti che non potrebbero arrivare, quindi si parla tanto di società globale, globalizzata, ma alla fin fine è un po' strana questa società globale, magari i mercati sono globali, intendo i mercati dei consumatori e anche quelli finanziari, però diciamo che dal punto di vista produttivo e della supply chain globale hai veramente dei punti molto critici di rottura. Beh, se fosse rimasto solo in Cina avremmo avuto già dei bei problemi, perché comunque il problema, come si diceva, è principalmente la durata. E quindi se questa cosa dura, infatti quello che analizzavamo anche con Cardenà, se dura ancora, se dura 15 giorni è un discorso, se dura un mese è un discorso, se dovesse durare sei mesi, otto mesi, chiaramente i danni sarebbero colossali. Però il problema a livello pandemico, adesso lo discutiamo dopo, il fatto che si appunto, man mano si esce dalla Cina, vi faccio solo dei ragionamenti che sto facendo un po' al volo, poi naturalmente cercheremo di aggiornare le cose, perché qui ormai si aggiornano di continuo. Come dicevo, le borse stanno cogliendo poco, adesso guardavo che l'italiana sta correggendo di brutto, adesso è meno uno e mezzo, aveva toccato 25.200 punti, adesso quant'era? Parare 24,6, 24,8. Però, adesso anche la borsa americana sta prendendo qualcosa, ma non è che faccia molto testo tutto questo, perché la borsa italiana era in massimi da non mi ricordo quanto, cioè è stata l'unica borsa che non è partita, decollata, non ha fatto nuovi massimi, niente, è proprio l'unica che è ancora sotto i livelli e ne abbiamo già analizzato, ben sappiamo perché, però poi è partita in quinta per la semplice ragione dell'enorme liquidità che gira e quindi qualunque gestore su una borsetta microscopica che non capitalizza manco come la Apple, da sola e dice, vabbè, cazzo faccio per alzare un po' il rendimento, eccetera, eccetera, ma sì andiamo a comprare un po' la borsa italiana che è rimasta indietro. Poi se ne sbattono altamente le palle, che la produzione industriale faccia schifo, si ha un meno 4,6 tendenziale, che i governi come al solito facciano schifo, che l'Italia sia veramente uno Stato con la pressione fiscale, ultimi dati, Ambrosetti, European House, 64,8% di total tax rate, siamo sopra a tutti, siamo al record, per dire in Germania sono a 42, tanto per dire in UK sono a 32. Quindi è chiaro che i mercati se ne fregano e quindi comprano l'Italia, però in effetti potresti già avere qualche segnale, nel senso che la prima che scarichi è proprio un mercato più debole, e quindi in effetti l'Italia sta già correggendo. Però l'anticipazione dei mercati, come dicevo, siccome i mercati ormai si basano molto sugli algoritmi, è un po' più difficile cercare di capire come muoversi, seguire questo anticipatore, perché per esempio, vi faccio un esempio, che mi citava proprio stamattina, ci siamo sentiti Paolo Cardenà, io le do sempre i PMI Markit, adesso stamattina non l'ho fatto, non avevo tempo, lui ha analizzato bene, ha letto l'ultimo PMI Markit, ha detto che la Germania ha avuto un rimbalzo del manufatturiero da 43-44 punti a 47, a 47, sì, commentava Stefano, sì certo, ma anche il S&P, renditi conto a che livelli è arrivato, quindi rendiamoci conto che il Dow Jones è riuscito a superare addirittura i 29.000. Comunque, è rimbalzato il Markit della Germania perché c'è un ritardo nelle consegne e questo è molto divertente, Paolo, bravissimo a notare questa roba, perché il ritardo nelle consegne viene interpretato normalmente dall'algoritmo dei loro meccanismi di analisi come una roba, un indicator positivo, perché vuol dire che non riescono a stare dentro gli ordini e quindi c'è un ritardo nelle consegne e invece probabilmente potrebbe non essere così questa volta, potrebbe essere che il ritardo delle consegne analizzato da PMI Markit della Germania e perché è loro che hanno una supply chain che hanno una supply chain molto molto sensibile alla Cina ancora più di noi e poi noi siamo collegati a doppio filo a Germania quindi inutile che ci mettiamo a fare le solite sparate soraniste ad estremanca da Bar Sport che c'è ben poco da divertirsi a fare così le gare e quindi potrebbe essere che invece la Germania in effetti ha un ritardo di consegne perché inizia a avere problemi di magazzino e inizia a mancare delle componenti dalla Cina al sud-est asiatico che non riescono a consegnare. Questo è un classico esempio che vi facevo degli schemi interpretativi degli algoritmi che vanno a ragionare su schemi standard e ci mettono magari un po' ad adattarsi e ad anticipare. Bene, vi faccio alcuni ragionamenti che sono appunto ragionamenti generali non è che posso dire molto di più non è che posso presentare dei numeri tanto più in questa sede qua lo farò su Radio Discord e RabiCoin per persone selezionate. Quindi il concetto è che quello che notavo oggi appunto erano i casi dell'Italia chiaramente i casi dell'Italia sono esplosi e preoccupano molto perché abbiamo il primo caso di infezione diretta di un italiano che stava qua in Italia che poi ha contagiato la moglie e un altro, adesso sono tre persone ed è stata contagiata da qualcuno adesso è ancora difficile capire è stata contagiata da qualcuno che è arrivato dalla Cina adesso al di là della considerazione che forse chiunque torna alla Cina andava contenuto in qualche maniera per sicurezza perché come un altro che io seguo molto è il virologo Burioni che lui dice appunto non bisogna mai inseguire il virus ma bisogna anticiparlo perché quando ti metti in seguirlo puoi esponentiare e rischia di diventare troppo tardi poi a quel punto ormai come fai a controllare la cosa quando uno ha visto quello l'altro è andato in palestra e è andato a lavorare all'Unilever perché dall'informazione che ho letto lavoro in una multinazionale ecco questo è molto importante le multinazionali rischiano di diventare già odiate in Italia per mille ragioni ideologiche e rischiano di diventare il centro del contagio perché in effetti le persone viaggiano non si spostano girano a Hong Kong e vanno a Singapore e vanno in sud-est asiatico questo ha lavorato però senza sintomi in Unilever è andato in palestra è andato a cena quindi va a sapere chi ha visto ecco capite che allora qui quando si vede che una persona viene contagiata qua e poi potrebbe passare a uno all'altro inizia a aumentare l'effetto psicosi di cui parleremo dopo ma potrebbe essere che allora si decide anche di chiudere l'Unilever della sede di L'Odio dove era perché se hai incontrato tutte quelle persone devi contenere quello vi rendete conto voi stessi dei danni economici ecco se si inizia a bloccare a livello pandemico quindi praticamente globale non solo in Cina inizia a bloccare aziende funzioni sociali cose normali l'assessore lì della zona ha detto state in caso tra l'altro secondo me è una stronzata ma comunque in ogni caso è così si crea chiaramente una psicosi di massa che dal punto di vista economico gli impatti a questo punto diventerebbero veramente enormi perché quando si scatena una psicosi di massa è molto difficile quindi è molto importante valutare quanto si diffonderà la pandemia in Italia e poi altrove chiaramente ma adesso io parlo dell'Italia e quanto questi virus sono contagiosi quante persone verranno contagiate e quanto soprattutto sono mortali perché adesso appunto non è il mio settore pare che non sia super mortale però queste sono cose che devo lasciare ai medici ai virologi eccetera non lo conosco neanche bene pare che tra l'altro il virus nella sua schema di trasmissione si diffonde fa la pandemia poi man mano si indebolisce e via e questo è lo schema però adesso qui stiamo a parlare degli impatti economici e stiamo a parlare degli impatti economici e in effetti pensate che ce ne sono veramente parecchi scrivevo nel mio post e vediamo per esempio di analizzare la cosa cioè per esempio il primo settore colpito è quello di turismo e trasporti turismo e trasporti infatti tutti stanno annullando vacanze ovunque perché iniziano a avere paura iniziano a dire ma se io vado nel super albergo non so dove dove arriva uno da Hong Kong uno di qua uno di là è chiaro che magari tenderà a andare in campagna tra le galline sempre che non lavorino dei manovalanza cinese che poi dopo che punto non è il problema dei cinesi io non ce l'ho con i cinesi non è assolutamente il problema il problema è solo che siccome è nata lì potrebbe essere che i cinesi la maggior parte non hanno più visto la Cina da vent'anni ma ancora la riconoscerebbero se la vedessero quelli che abitano qua però potrebbe essere che ci abbia un parente che è tornato da anche solo un mese fa e quindi è chiaro che è più rischioso cioè non c'entra niente il discorso raziale è solo un discorso puramente razionale comunque tutti stanno annullando viaggi, alberghi, cose eccetera voli aerei guardavo gli ultimi dati abbiamo un annullamento del 50% anche di cose e queste cose qua tirano giù una ramazzata nel settore veramente pesante il settore mezzi di trasporto voli aerei eccetera eccetera anticipa molto anticipa molto il ciclo economico considerate che l'hotel c'è un dato negli Stati Uniti che viene seguito molto che è il livello di come si chiama di prenotazioni e di occupazione delle camere degli hotel questo rating perché gli Stati Uniti hanno veramente una quantità di dati impressionanti questo rate anticipa la recessione nel 2008-2009 calcolo il rischio che è uno dei migliori blog in circolazione uno dei migliori blog in circolazione è riuscito a anticipare su vari indicatori soprattutto immobiliari la crisi su Prime e uno dei dati fondamentali era che erano corrate le prenotazioni attenzione le prenotazioni non sono negli hotel ma anche i ristoranti e tutto il resto poi i voli aerei chiaramente e tutto il resto se scende il traffico i trasporti eccetera sono dati molto sensibili ecco questi possono creare dei danni economici veramente grossi iniziamo a un paese come l'Italia che comunque adesso non è basato sul turismo perché siamo talmente una massa di coglioni che riusciamo a non essere il numero uno neanche nel turismo mentre dovremmo essere il numero uno al mondo senza dubbio no doubt ok però non siamo capaci quindi ci veniamo super stati dalla Francia la Francula la Francia bellissima eccetera ma dovremmo essere noi il numero uno al mondo perfino la Spagna ormai ci sopassano tutti però al di là di quello quindi mentre diciamo che per esempio la Thailandia che è organizzata molto bene raggiunge se mi ricordo un 14% di PIL di turismo perché appunto poi la gente dice ah il turismo è il petrolio non è vero il turismo è un'attività complementare a basso valore aggiunto eccetera molto utile eccetera niente da dire però non si può pensare di vivere di turismo sono piccole zone eccetera e l'Italia adesso non mi ricordo se non mi ricordo i dati mi spiace non li ho controllati ma comunque mi pare che sia sotto al 10 oggi quindi non è una roba incredibile però capite voi che se vi trovate in situazioni economiche dove vengono annullate tutte le prenotazioni c'è gente che inizia veramente di rischiare a saltare ci sono compagnie aeree le compagnie aeree sono molto esposte da un punto di vista finanziario spesso perché magari stanno arrivando dalla flotta fanno grossissimi investimenti sugli ultimi Boeing o cose di questo genere se iniziano a viaggiare più cazzo di nessuno quelle ti saltano come birilli hanno una struttura finanziaria molto tirata e quindi capite che poi si innescano quindi hai crisi economiche a posti di lavoro come vi dicevo appunto Unilever potrebbe decidere che chiude la sua sede qua perché c'è una zona infettata e se domani si diffonde ovunque un colosso come Unilever può chiudere un'altra sede o un'altra ancora quindi i danni economici risultano evidenti al di là dell'elemento psicosi dell'elemento psicosi fermo restando se continua la cosa perché è chiaro che nel momento in cui la pandemia dovessero allentare il virus dovessero allentare di cosa stiamo parlando è chiaro che si parte a nastro e infatti è per quello che bisogna monitorare anche un'attenzione soprattutto i prossimi 10 giorni vado un attimo a vedermi il post che avevo messo perché avevo messo un po' di punti interessanti ecco ecco quindi dicevo appunto il contagio i voli aere che dicevo uffici chiusi ecco chiaramente potresti avere quindi un profondo impatto sui consumi consumi in generale e questo è logico siamo in una società consumista siamo sempre abituati a girare andare al cine a mangiare al ristorante a fare viaggi a comprare tu potresti dire che appunto riduci tutta questa attività perché tendi più a starteni in casa a muoverti di meno a non uscire a comprare e hai il classico ritardo degli acquisti cioè decidi vabbè ma perché devo andare adesso a fare questo viaggio perché devo andare adesso a comprare questa roba eccetera magari un supermercato affollato con la gente che sta a notici e poi magari ti becchi solo un'influenza che poi quello è il problema siamo anche nella fase influenzale che è molto simile come sintomi e quindi ritardi di acquisti quindi crollo dei consumi e quindi potreste avere una roba del genere e poi ci sono ancora altre cose aspettate un attimo che leggevo qua ah sì per esempio una delle prime cose che potrebbero essere colpite pesantemente è il settore degli immobili commerciali del real estate commerciale perché in una situazione dove hai un rischio di forte rallentamento dell'economia e di rischio di blocco dell'economia di interi settori cosa vai a investire nel immobili commerciali quindi potrebbero colare i prezzi rallentare il mercato e quindi anche poi per esempio dal punto di vista degli investimenti delle imprese gli investimenti potrebbero rallentare in maniera netta ecco questi sono impatti economici che potrebbero senza altro venire fuori e sono cose che non si possono trascurare perché perché anch'io allora bisogna pensare anche sempre ragionare al di là delle regole economiche di tutta una serie di cose di indicatori che uno può tirare fuori bisogna ragionare come stiamo ragionando noi semplicemente la vita di tutti i giorni e moltiplicarlo per il numero di persone come vedete sono molto tranquillo non sto facendo video sbrocchi ma perché non è il caso qua e quindi io per esempio ho sentito già numerose persone che mi hanno detto guardate io devo andare a una conferenza a Barcellona con cento persone mi sto chiedendo boh quasi quasi annullo e non ci vado e queste cose si stanno moltiplicando tanta gente ragiona così quindi se tu inizi a avere un rallentamento della circolazione di moneta collegato al rallentamento dell'economia collegato al rallentamento dei consumi al rallentamento proprio delle persone che iniziano a muoversi a fare meno quello che facevano continuamente hai chiaramente grossi danni economici rischi anche appunto soprattutto in economia deboli come quella italiana di recessione però ripeto tutto da vedere come si svilupperà nei prossimi tempi questa cosa qua l'area capo che io seguo insieme a Burioni e altre poche fonti affidabili diceva aveva fatto un articolo ha detto ma questa è la mattita me l'ho detto io invece non era fatto mattita e diceva io consiglio aziende di iniziare a attrezzarsi per il telelavoro e non aveva sbagliato perché se tu hai delle sedi che possono venire bloccate per questione di contenimento ma non perché stanno crepando tutti ci sono gli zoni e roba di questo genere non è quello il punto il punto è che i virus si contengono così e se non li contieni per tempo poi dopo si sviluppano molto di più di quanto potevano fare e poi i danni veramente non sai quali potrebbero essere quindi le consiglie del telelavoro infatti per esempio noi usiamo lo strumento della piattaforma Discord stavamo ridevamo sentendoci oggi con un po' di contatti dicendo però noi lì possiamo continuare a lavorare a fare le nostre riunioni perché almeno siamo in telelavoro siamo collegati sembra anche star notice star notice a casa sua sono tutti i ragionamenti che sembrano così terra a terra ma sono ragionamenti che in effetti un pochettino iniziano a fare tutti e quindi questa roba qua del telelavoro e delle piattaforme ecco questo comunque importante perché molto lavoro oggi è sviluppabile comunque attraverso queste situazioni qua adesso lavoro di servizi chiaramente non di produzione o cose di questo genere quindi questa roba qui è importante quindi che vi posso dire io quello che vi posso dire è tutto è che sicuramente ormai è abbastanza evidente come dicevano già degli esperti negare che ci sarà una pandemia globale c'è già in parte di quale dimensioni non lo so la mortalità non lo so nel mio settore non lo sanno neanche probabilmente i virologi che stanno facendo un sacco di ipotesi un sacco di modelli anche perché il virus non si conosce bene e quindi fanno ipotesi vi aggiungo anche proprio volendo fare caccia sfiga purtroppo dobbiamo essere razionali e l'Africa l'Africa ha 8 milioni di cinesi e mezze conquistate dalla Cina e non ha sicuramente le strutture che possiamo avere noi che comunque sono limitate se vi faccio un esempio pare che appunto questo virus ti attacca ai palmoni e io posso usare dei macchinari per comunque permetterti di respirare di sopravvivere e se non intervengono complicazioni il virus poi passa spontaneamente e via e però quanti respiratori ci sono quante strutture riesci a gestire andare a pigliare la gente con un superambulanza tutta controllata mascherine chiuso eccetera e portarmi all'ospedale finché sono x casi sono cose gestibili se i casi aumentano non riesci più a gestire neanche in Italia immaginiamo in Africa dove appunto non c'è gestione quasi per nulla a parte rari casi di una cosa del genere quanti africani potrebbero infettarsi probabilmente si sono già infettati ebbene sapete bene che appunto qui lasciamo perdere Salvini pro immigrati contro immigrati non me ne frega un cazzo lo lascio a voi queste discussioni però sappiamo che tantissimi immigrati africani tanti comunque arrivano in Italia appunto e al di là delle scene che poteva fare Salvini su una nave particolare o può fare qualcun altro per strumalizzazione politica di destra di sinistra non mi interessa sappiamo benissimo che la maggior parte degli immigrati sbarcano tu non lo sai cioè sbarcano sulle spiagge li buttano giù arrivano e arrivano e questi potrebbero essere malati potrebbero essere malati pensate solo in questo momento probabilmente giù a ma porca come cazzo si chiama non mi viene il nome adesso vi è uscito il nome dell'usuletta dove arriverò tu Lampedusa ecco pensate a Lampedusa come potrebbero essere nervosi su questa cosa qua perché appunto ma non è che dico che adesso arrivano gli africani che sono tutti infetti dico che in effetti lì con una minore controllo del virus potresti avere molti infetti che arrivano non sono nemmeno registrati non ne sai assolutamente nulla quindi tu ti preoccupi oddio oddio ho incontrato quello che è andato in Cina ho incontrato il cinese e poi invece magari ti sta notizia addosso un africano ma piuttosto anche un italiano qualunque che ha viaggiato e non è neanche andato in Cina ha fatto scala a Dubai a Dubai c'erano vicino a lui una serie di persone che arrivavano da Hong e cazzo ne sapeva e si è beccato il virus quindi capite quando c'è la pandemia poi è difficile andare quindi non è neanche un discorso di razza ma di appunto basta sempre di fare queste lotte ideologiche e tutto è un discorso di razionalità quando scoppia la paura non ce n'è per nessuno capite adesso faccio un esempio siamo tutti qua a dire che razzisti contro i cinesi e si adesso fra un po' diventiamo razzisti verso quelli di Lodi perché adesso oh c'hai un amico di Lodi porca toia cioè non li metti più a cena l'amico di Lodi no o di dove era lì nell'Odigiano eccetera Codogno e così via cioè adesso io ci rido un po' sopra ma sono sono dinamiche appunto delle pandemie e delle psicosi che si sviluppano su queste cose qua e c'è poco da fare adesso andate a salutare il vostro amico di Codogno dai partite su prendete quindi vuol dire che anche Codogno se aveva che ne so una serie di dinamiche di persone che andavano rischia di essere più isolata di essere più isolata questo non è fare allarmismo è logico e umano che uno abbia abbia paura e quindi che vi posso dire ecco e allora io dal punto di vista medico appunto non posso giudicare non posso dire niente dal punto di vista economico vi ho detto è inutile sottolautare se c'è una pandemia globale dipenderà bisogna monitorarla di continuo lo faremo e ci possono essere danni economici veramente molto molto importanti ripeto rispetto alle vite umane non è che non li sto cagando solo che se devo fare un'analisi economica devo farlo in maniera razionale un po' cinica e quindi non sto a vedere i casi di vite umane dico quali potrebbero essere gli impatti e possono essere notevoli se poi si scatena la psicosi e qui bisogna stare molto attenti infatti molto attenti questo è importante e se si scatena la psicosi i danni possono essere colossali perché puoi fare anche l'assalto i supermercati poi tra l'altro magari non hanno nessuna logica nessuna logica però quando scoppia la paura la gente non ragiona più è chiaro quindi vedremo nei prossimi tempi vi faccio ancora un paio di ragionamenti poi la chiudo qua che volevo fare e il ragionamento era aspettate un attimo sette giorni virus ok allora a parte che io appunto non vedo uno scenario dai dati che ho in mio possesso da film zombie post apocalittico cioè però non è che faccia piacere si diffonde una pandemia c'è un virus che ti colpisce i polmoni non c'è cura devi cercare di gestirlo in vari modi e appunto poi le pratiche di contenimento di qualunque stato di qualunque ministero della salute eccetera sono che poi puoi anche decidere di chiudere una scuola due scuole di chiudere quella fabbrica quell'ufficio quindi le conseguenze sono pesanti e cosa potrebbero decidere di fare gli stati cosa potrebbero decidere di fare gli stati come reazione dico gli stati in generale come reazione una cosa del genere è abbastanza ovvio c'è una notizia di poco fa che leggevo gli stati saranno pronti a inondare per l'ennesima volta il mondo di liquidità e qualunque cosa che possa capitare non capitare immagino gli stati insieme alle banche centrali naturalmente quindi l'hanno già sempre fatto per altre ragioni potrebbero farlo ancora di più perché potremmo avere una specie di new deal ruswelliano questa volta non fake green come prendo sempre in giro io ma antivirus una specie di antivirus di new deal antivirus quindi potrebbero trovarsi degli accordi se la cosa dovesse peggiorare dove appunto si può sbraccare il debito il deficit quanto cazzo vuoi anche in Italia in Europa o al di là degli accordi le banche centrali possono superare provvisoriamente le loro policy e quindi cercare di supportare perché dal resto è quello che ci chiedevamo ma se tu hai cinque aziende che devono chiudere per contenimento del virus chiaramente tenderai a dargli una serie di sovvenzioni e di aiuti per mantenere la situazione proprio poco fa se vi vado a pescare la notizia il presidente Trump eccolo dove cavolo è finito a noi di qua di qua ho messo la notizia il presidente Trump ha già detto via Twitter perché quello parla sempre due Twitter che ha detto che stanno già studiando delle misure di supporto per i settori agricoli degli Stati Uniti che potrebbero avere delle difficoltà di trading globale di vendita e tutto il resto per colpa del virus ecco quindi questa cosa qua aspettate che stavo leggendo meglio sì praticamente dare il respiro ecco questo è importante quindi banche centrali eccetera saranno ancora più espansivi del solito stati del solito se le cose dovessero peggiorare pronti quindi a dare un supporto a tutti i danni che potrebbero esserci economici e no quindi se vogliamo vedere alcuni paragoni con serie di dati come abbiamo fatto con Cardenal 18 sera su Radio Terra Bitcoin dove c'erano grafici e cose più approfondite il paragone si potrebbe anche fare con la SARS è successo se vogliamo vedere a livello di mercati che la SARS ha scatenato una forte correzione dei una forte correzione degli indici eccetera soprattutto in Cina un forte rallentamento economico però poi è durata poco non è durata tanto eccetera e quindi dopo grazie proprio all'espansione che anche la Cina già adesso ha abbassato i tassi sta facendo espansione quantità di easing eccetera praticamente ha avuto poi subito un forte rimbalzo ecco quindi lo schema potrebbe essere un veloce crollo sia dell'economia globale delle borse non so dirvi perché ormai quelle vanno col pilota automatico quindi non si fanno adesso diamo un attimino scusate che non lo stavo vedendo Yahoo Finals vediamo gli indici gli indici adesso si conferma meno 1,4 il Fuzzini che però aveva superato i 25 0,74 il Dow Jones e comunque tiene 29 mercati veramente difficili da fare la manutenzione perché capace come dicevo gli algoritmi facciano un adattamento molto rapido e veloce di questa desincronia da un momento all'altro però non so dirvi è certo che però come ho detto gli elementi dei danni economici sono sempre più certi soprattutto più che si spenderà la pandemia la psicosi può essere veramente la psicosi di massa può essere una variabile veramente veramente pericolosa molto pericolosa perché rischia veramente di bloccare ma anche solo come vi dicevo per rimandare le decisioni che tu dici non faccio questa cosa aspetto una a vedere come va questo vuol dire avere un blocco economico vero e proprio e anche a livello di impresa che poi sono fatte di persone e quindi queste cose qua potrebbero se peggiorasse ancora un po' la situazione veramente avere impatti molto pesanti sull'economia globale anche quell'italiana e i mercati finanziari non so cosa dire come al sempre state banche centrali come sono stati tutti questi anni senza neanche avere delle scuse particolari oddio magari le avevano anche saranno super espansivi e pronti a sovvenzionare anche mia sorella e quindi va bene questo è un po' non credo che al momento ci sia altro da aggiungere vorrà ancora un attimino che a meno scritto due appunti ah sì vabbè quindi diciamo che potrebbe essere potrebbe essere ma difficilissimo da valutare che se avessimo questa enorme emissione di liquidità da parte delle banche centrali e degli stati di sovvenzione e tutto il resto potrebbe veramente scaricarsi una scaricarsi un scusate non scaricarsi potrebbe veramente scatenarsi un'ondata inflattiva vera non di asset inflation come avevamo avuto sempre in questi anni ma veramente anche di prezzi di prezzi dei beni ordinali anche perché potremmo avere paradossalmente un potremmo avere come si chiama beni che risultano meno disponibili di prima e quindi potrebbero salire i prezzi di molte cose e quindi questa enorme emissione di liquidità che potrebbe arrivare oltre quella già ordinaria porterebbe un ulteriore processo di distruzione e perda di valore delle valute fiat per questo appunto l'oro rimane comunque sempre un ottimo bene rifugio da avere come differenzazione infatti continua a salire non a caso poi vabbè il Bcoin che è un altro discorso anche se il Bcoin poi sarebbe da farci una puntata a parte perché appunto è collegato molto al web alla potenza di calcolo anche in Cina quindi il Bcoin è interessante sarebbe da fare però lo facciamo un'altra volta un discorso a parte che vi posso dire speriamo bene che appunto le cose vadano come gli altri virus che quindi avremmo uno sviluppo fino a un certo punto e poi un rallentamento speriamo che non si scateni la psicosi e certo che non c'è da dire niente da dire viviamo in temi come dire molto interessanti da tenere sempre d'occhio e monitorare purtroppo anche molto ansiogini molto ansiogini c'era già da avere l'ansia prima uffa scusate c'era già da avere ansia prima su un'economia globale basata così tanto su una bolla globale finanziaria mai vista prima e oggi addirittura questa situazione potrebbe peggiorare per le ragioni che vi ho detto e tra l'altro su un ciclo economico che si stava già comunque indebolendo naturalità ecco questo è quanto vi saluto vi ho fatto un po' di stimoli di idee che potreste anche avere voi perché appunto come ho detto è importante vedere come ragionano le persone perché poi l'economia è fatta di persone e speriamo bene ci aggiorneremo fra un po' di tempo io vi raccomando solo visto che la psicosi danneggia anche in primis voi stessi voi stessi e cioè ci danneggiamo da soli cercate almeno di informarvi non leggere tutte le puttanate che ci sono in giro sui social giornali per qualche di più cose di questo genere trovatevi 3-4 indicatori 3-4 persone che considerate affidabili come ho fatto io e ascoltate loro poi possono anche canale loro però perlomeno non state a ascoltare dei cialtroni ma cercate a spostare delle persone per esempio appunto io avevo ascoltato l'aria capo che può avere tutti i suoi difetti niente da dire però in effetti le cose che aveva detto aveva anticipato si stanno comunque realizzando quindi senza tanta psicosi terrorismo mediatico e leggere fonti del cazzo veramente di fake news da tutte le parti ci si concentra e si cerca di prendere come al solito valutazioni nazionali su fonti affidabili ecco il problema è il problema è seguirle e interpretarle tutto qui niente auguro in bocca al lupo a tutti e speriamo di sentirci in momenti migliori bene buona giornata grazie a tutti grazie a tutti